allora i primi ad entrare in pista sono gli atleti contrassegnati con il numero trentuno Manuel Chiara Luce e Filippo Brugnola che ci presentano student posizione e musica iscriviti al canale Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Come on, caballero! Let's go! Let's go! E grazie Emanuele e Filippo. Al termine di questa finale ci sarà il Duo Mix 19-34 anni.